Tra i protagonisti a Biosalute troviamo il maestro Giuseppe Paterniti, un maestro di discipline e arti marziali che ci parlerà appunto di arti per la vita. Ci sarà una conferenza domenica alle ore 18 al termine della manifestazione appunto di Biosalute ma ce ne parlerà direttamente lui. Buongiorno maestro! Buongiorno! Allora, l'importanza di praticare un certo tipo di attività proprio per il benessere psicofisico? Certo, è fondamentale soprattutto in quest'epoca, adesso sta diventando una priorità. L'OMS individua la salute come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e quindi non una semplice assenza di malattia. Per questo motivo è importante in qualche modo lavorare su se stessi affinché si possa preservare la salute e chiaramente migliorare la qualità della propria vita. In questo senso ci sono diverse discipline, adesso ce ne sono davvero parecchie, discipline olistiche in particolare, che si occupano della persona, quindi non soltanto sul piano fisico ma anche su quello psicologico e relazionale. Ne vedremo comunque un esempio, diversi esempi a Biosalute di questo. Sì, infatti la fiera sicuramente sarà molto ricca in questo senso. Noi nel nostro piccolo avremo un nostro stand dove appunto faremo conoscere le nostre attività. Noi facciamo diverse cose dal Tai Chi Chuan che è un'arte marziale cinese che però si pratica anche semplicemente per incrementare il proprio stato di salute appunto. Oppure il Qi Kung che è una sorta di ginnastica sempre di tradizione cinese che però va a incrementare la propria energia interna e a equilibrarla. Presenteremo anche il Reiki Ryoko tradizionale. Il Reiki è una disciplina abbastanza famosa ormai ma poco meno la sua versione tipicamente tradizionale giapponese. Noi ci occupiamo anche di naturopatia e di counseling. E soprattutto le discipline bioenergetiche in generale. Quindi tutte quelle discipline che in qualche modo intervengono sul sistema energetico della persona al fine di equilibrarlo e quindi incrementare benessere. Benissimo, allora diamo appuntamento dall'8 al 10 marzo a Biosalute per riequilibrarci. E ringraziamo il maestro Giuseppe Paterniti. Buon lavoro. Grazie a voi, a presto.